Tutti i prodotti di Google che impareremo ad usare dispongono di questa maschera di login. Gmail, Google Drive, YouTube e altri siti di proprietà di Google presentano tutti la stessa mascherina d'accesso. In genere, nel primo campo è sufficiente inserire il proprio nome utente tralasciando il chiocciolo a Gmail.com. Quando è richiesto però, come nel caso di YouTube, potrebbe essere necessario riportare l'indirizzo email completo. Nota che quando il cursore lampeggia nel campo del nome utente, facendo un ulteriore clic sul campo di testo o in alternativa premendo uno dei tasti freccia su o giù, compare una lista di username usati di recente per accedere. A meno che questa funzionalità non sia stata disabilitata manualmente, se non è la prima volta che accediamo al nostro account Google dal computer che stiamo usando, dovremmo essere in grado di vedere questa lista. Quando appare la lista possiamo cliccare sopra il nostro nome utente oppure usare i tasti freccia per selezionarlo e premere invio per confermare. A questo punto basta inserire la password. L'altra particolarità da sottolineare di questa maschera di login è la casellina Resta connesso. Se spuntiamo questa casellina ed entriamo nel nostro account, il nostro account Google rimarrà aperto anche se chiudiamo il browser o spegniamo il computer. Ogni volta che torneremo alla home page di uno qualsiasi dei servizi di Google, ad esempio www.gmail.com, verremo reindirizzati automaticamente all'interno del nostro account Google, senza bisogno di inserire nuovamente username e password. Di nuovo per uscire dall'account sarà necessario cliccare sul menu account in alto a destra e scegliere la voce esci. Se togliamo la spunta ed entriamo nel nostro account, non appena la sessione di navigazione termina, cioè non appena chiudiamo il browser, il nostro account Google viene automaticamente disconnesso, cosicché per rientrare sia necessario inserire nuovamente username e password. In sostanza l'opzione Resta connesso ti può essere utile quando accedi al tuo account sempre dal tuo computer, per non dover inserire ogni volta username e password. Se però accedi al tuo account da un qualche altro computer o dispositivo che viene usato anche da altre persone, è sempre meglio non mettere la spunta su questa casellina, per garantire la sicurezza del tuo account e dei tuoi dati. In ogni caso ricorda che per eseguire la disconnessione sicura dal nostro account Google, basta aprire il menu in alto a destra e cliccare il tasto Esci. Infine, in caso di smarrimento della password, possiamo cliccare questo link e seguire le istruzioni della procedura guidata che si apre. Questo conclude la breve panoramica della maschera di login del nostro account Google. Grazie a tutti. Grazie a tutti.